Allora, buongiorno e chiamo a sedersi qua al tavolo i nostri relatori e il presidente di Anama. Allora, l'ingegnere Dallanoce. Grazie. Sì, in collegamento da remoto però, in collegamento da remoto sì c'è. Abbiamo tre relatori in collegamento da remoto, quindi non vi preoccupate. E poi saranno collegati dai propri PC. Il pubblico che non è qui in sala sarà collegato dal PC. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie per essere qui. Adesso la regia ci dice che manda uno spot, un video. Allora, buongiorno a tutti. Bene, allora possiamo iniziare questo panel, questo ultimo panel della mattina. Vado quindi a presentare i nostri ospiti che sono seduti qui al tavolo, ma che sono anche in attesa da remoto, collegati da remoto, così entriamo subito nel vivo, di questa iniziativa, di questo panel che si intitola appunto il Cargo Aereo in Italia e le sue prospettive. Quindi abbiamo con noi stamani i rappresentanti di quella che è una filiera logistica, diciamo gli attori primari della filiera logistica del Cargo Aereo, che viene quindi ricostruita. Iniziamo dai presenti che sono il presidente di Anama, ingegnere Alessandro Albertini, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. L'ingegnere Dallanoce, che rappresenta SEA Aeroporti di Milano e è il Head of Cargo Management. E collegati da remoto, iniziamo con l'ingegnere Claudio Eminente, buongiorno, che è il direttore centrale Programmazione Economica e Sviluppo e Infrastrutture ENAC. Buongiorno. Buongiorno. L'ingegnere Enrico Pastori, director TRT Trasporti e Territorio. Buongiorno. Buongiorno. La catena della filiera logistica si completa con il dottor Fabrizio Iacobacci, rappresentante di Asso Endlers. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, dunque, a questo punto mi piacerebbe, voglio fare una riflessione su un inquadrare, dare un quadro generale a questa iniziativa. Innanzitutto dicendo una cosa, che il cargo aereo è sicuramente una modalità di trasporto logistico in piena espansione, in espansione questo è un termine, poi vedremo nel dettaglio quali sono i termini di questa espansione. Ma questo, diciamo, e qui niente di nuovo, niente di nuovo nel senso che sono due giornate che sentiamo parlare come la catena logistica sia soggetta in questi ultimi anni a una forte pressione e a modalità di adattamento veloce. Quindi, quelli che sono, diciamo, una sorta di contaminazione, no? Che inevitabilmente recepisco. Sono stata qui ieri e le conferenze della mattina affrontavano il tema geopolitico e quindi gli avvenimenti geopolitici che hanno caratterizzato questi ultimi anni, a partire da quello che viene identificato come il vero e unico cigno nero, quindi l'avvenimento del Covid, che ha cambiato profondamente il contesto, evento inaspettato, che ha modificato alcune caratteristiche. Da lì la catena logistica ha subito veramente degli shock profondi. Anche questa è una parola shock che in questi giorni, in queste due giornate, abbiamo sentito nominare molto velocemente. Poi si sono susseguiti degli eventi molto importanti come gli Stati Uniti che hanno abbandonato l'Afghanistan e la riorganizzazione geopolitica delle potenze. Poi è seguita quella che è stata la guerra in Ucraina, purtroppo questi avvenimenti Gaza, Israele, alla fine il Mar Rosso, la crisi del Mar Rosso. Quindi i riflessi sulla catena logistica sono stati quelli di una riorganizzazione molto veloce e oggi, a differenza di quello che è il periodo post-Covid, la catena logistica ha questa caratteristica che si riorganizza molto velocemente. Addirittura le aziende, ci dicevano ieri, hanno monetizzato questa velocità con cui si riorganizzano. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è quello della globalizzazione. È un po' decaduto il concetto di reshoring. Abbiamo visto che, soprattutto in Italia, i grafici del reshoring è un appiattimento. Ieri ci diceva Assolombarda che forse arriva a un 5%. Ma si affaccia e si delinea a quello che è il near-shoring. Cioè, nell'allungamento della catena logistica, probabilmente l'Italia sarà, secondo uno studio fatto da Gaber, che è un gruppo tedesco che è sbarcato in Italia ultimamente nella logistica, l'Italia sarà un terreno di investimento per i paesi, per la Germania, soprattutto in questo caso dello studio, per investimenti in ambito logistico, in ambito di produzione anche. Questo delinea alcuni aspetti, magari ne parleremo dopo. Va bene. Diciamo, questi sono degli elementi che ho voluto affrontare perché servono un po' per introdurre questo tema. Questo tema che non può essere avulso da quello che è tutto il concetto logistico. Tanto più che la merce che viene trasportata è una merce che, proprio per le sue caratteristiche, non trova le caratteristiche necessarie nel trasporto marittimo. Allora, Ingegnere Eminente, inizio con lei. Siamo in attesa del suo speech, così ci traccia un contesto generale del settore. Grazie. Sì, intanto buongiorno di nuovo a tutti e ringrazio gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo evento. Provo a condividere lo schermo con la mia presentazione. Spero che la vediate. Sì, sì, la vediamo. Bene. Allora, prima di tutto partiamo da quello che è il trasporto aereo e perché il trasporto aereo cargo. Allora, chiaramente rispetto alle diverse modalità di trasporto merci, come quella marittima o quella su strada, il trasporto aereo per mezzo aereo è caratterizzato da quantità minori, evidentemente legate al tipo di mezzo che va a trasportare le merci, ma un elevato valore economico. Questo è abbastanza chiaro dagli istogrammi che vedete sulla destra del grafico che rappresentano evidentemente proprio questo dato. Questo perché a fronte della quantità trasportata, noi nel trasporto aereo abbiamo merci di particolare rilevanza, quindi top di gamma caratterizzata dai tempi di consegna bassi, un elevato tasso di ossorescenza, quindi la necessità di essere trasportati da una parte all'altra del mondo in tempi brevi. e quindi questo giustifica evidentemente i costi più elevati di trasporto. Dopodiché vediamo quelli che sono gli sviluppi del trasporto aereo cargo e le motivazioni perché questo si verifica. Da una parte noi abbiamo, e questo è abbastanza evidente ormai, una globalizzazione dei mercati, quindi la necessità, abbiamo già detto, di portare delle merci da una parte all'altra nel mondo, in particolare quelle merci che sono generatrici di valore. Dall'altra parte un efficientamento dei processi, ossia il trasporto aereo via cargo consente di trasportare in maniera efficiente ed efficace merci che altrimenti potrebbero deperire nel corso del trasporto. L'altra è l'aumento, è stato già detto da altri editori, ho sentito, dell'e-commerce. L'e-commerce ormai ha raggiunto l'80% delle merci trasportate e quindi la necessità evidentemente di trasportare rapidamente queste merci acquistate online da una parte all'altra del mondo. Quali sono le tipologie di trasporto aereo cargo che si trovano ad essere presentate? Abbiamo il trasporto belli, il trasporto belli è il cosiddetto trasporto nelle pance degli aeromobili, quindi aerei passeggeri che nei vani cargo rappresentati al di sotto degli aeroplani trasportano normalmente delle merci, oltre che i bagagli dei passeggeri. Oppure abbiamo il trasporto merci dedicato che sia o il courier o il trasporto cargo. I courier sono normalmente degli aeroplani di dimensioni più contenute che trasportano di solito posta o pacchi. Invece l'all cargo è caratterizzato da aeroplani di grosse dimensioni normalmente per trasporto intercontinentale, dove al loro interno vengono collocati dei pallet, ossia dei contenitori appositamente definiti per le dimensioni di questi aeromobili, che al loro interno trasportano le loro merci. Dopodiché abbiamo l'aviotrasporto, che vuol dire sostanzialmente quando utilizzando il trasporto su gomma si utilizzano dei pallet, quindi dei contenitori normalmente utilizzabili anche in aeroplano che vengono utilizzati per trasportare per piccoli tragitti le merci che poi vengono imbarcate con documentazione tipica per il trasporto aereo. Questo ci porta di fatto a dire che comunque il trasporto aereo via cargo implica un tazzo elevato di collegamento tra l'aria e la gomma evidentemente perché bisogna portare le merci in aeroporto e poi una volta che si arriva all'aeroporto di destinazione ricaricarle nuovamente su ruota e quindi trasportarle alla destinazione finale. Vediamo quello che è un focus sul trasporto aereo in Italia negli ultimi anni. Dal 2019 avevamo circa 1.061.000 tonnellate trasportate queste tonnellate nel 2022 sono arrivate a 1.075.000 nel 2023 troviamo un leggerissimo calo che le ha portate intorno a 1.061.000 chiaramente in mezzo c'è stato il periodo del Covid quindi c'è stata una caduta nelle tonnellate delle merci trasportate con una ripresa nel 2021. Caduta che evidentemente è meno evidente rispetto a quella che è il trasporto passeggeri ma purtuttavia di una riduzione parliamo. Per quello che riguarda gli aeroporti interessati vediamo che Malpensa è l'aeroporto principale in Italia per il trasporto delle merci in particolare per quelle belli seguito da Venezia e Bologna oltre a Fiumicino mentre gli Olcargo a parte Malpensa abbiamo anche Brescia e Taranto oltre che Fiumicino il 2023 ha avuto purtuttavia una leggerissima caduta nel trasporto su Malpensa mentre ha visto Fiumicino crescere in Italia maggiormente le principali direttrici di trasporto merci nel 2023 hanno visto soprattutto un traffico internazionale intercontinentale con circa il 92% del totale delle merci trasportate in Italia andare verso queste direzioni e solo l'8% a livello nazionale e tra le destinazioni estere più gettonate abbiamo la Germania in Europa mentre all'estero abbiamo Stati Uniti, Emirati Arabi e Cina fondamentalmente a livello nazionale vediamo che il traffico cargo si concentra nel nord questo legato a una distribuzione di domande e offerta concentrata nelle aree del nord al centro abbiamo un mercato rivolto soprattutto al trasporto di materiale farmaceutico che quota circa il 38% che è concentrato sull'aeroporto del Fiumicino mentre al sud per motivi di scarsa richiesta quindi raggiungimento di masse critiche abbiamo decisamente dei volumi inferiori quindi se volessimo andare a ridurre questo gap diciamo trasportistico dovremmo andare verso un miglioramento dell'aspetto logistico che dovrebbe riportare il sud verso un raddoppio di quello che sono le attuali quote di mercato per quello che riguarda l'impatto sulla capacità aeroportuale del trasporto cargo in realtà non c'è un vero e proprio impatto perché gli orari nei quali si concentra il trasporto cargo sono quelli diciamo notturni o di prima mattina quindi non vanno in competizione col trasporto pubblico e questo è sicuramente un elemento favorevole l'elemento negativo è legato all'impatto ambientale o operativo l'impatto ambientale perché chiaramente i voli notturni implicano diciamo un maggiore impatto sulla sensibilità dei cittadini che si trovano a vivere nell'intorno aeroportuale in generale noi questo lo vediamo anche nel nuovo piano nazionale degli aeroporti non vengono precluse le possibilità dei vari aeroporti di potersi sviluppare per un settore di trasporto cargo anzi tutt'altro tuttavia bisogna tenere presente che in alcuni scali ci sono delle limitazioni infrastrutturali tipiche per esempio aeroporti militari aperti al traffico civile oppure problemi di limitazioni ambientali per quello che riguarda lo sviluppo è stato già detto esiste una prospettiva di sviluppo dal 2021 sicuramente agli anni a venire legati soprattutto al crescere anche delle merci diciamo acquistate online le previsioni che voi vedete rappresentate sulla destra sono sicuramente basate su dei modelli econometrici anche di tipo conservativo per quello che riguarda i numeri noi prevediamo che nel 2025 al 2035 abbiamo una crescita del percentuale delle merci trasportate del 6 al 27% al 2035 anche se il trend di crescita rappresentato da CAG rispetto ai valori storici è più basso più basso legato in particolare in questa fase a quelle che sono tutte le vicende che ci troviamo a vivere nelle varie guerre a livello internazionale e non ultima quella del Mar Rosso però ci si auspita che questo trend di crescita riaumenti diciamo nel periodo nel lungo periodo come dicevo nell'ambito del piano nazionale degli aeroporti che al momento è in discussione in un tavolo tecnico presso il Ministero dei Trasporti il trasporto cargo è uno del topic che vengono attenzionati in particolare ora il trasporto aereo cargo ha diversi punti di forza quindi la posizione geografica strategica dell'Italia rispetto a tanti altri paesi che l'ora presenza costituisce un hub internazionale intercontinentale importante i volumi di import ed export che possiamo gestire nel nostro paese la possibilità di collegare gli snodi principali per la logistica in modo efficace ed efficiente l'appartenenza degli aeroporti italiani alle reti TNT europee che vanno a collegare i principali scali europei e una previsione di crescita per il trasporto aereo in Italia ed europeo importante in un'unica scuola ci sono degli elementi di debolezza che vanno sicuramente affrontati il primo è una dotazione infrastrutturale e logistica ancora insufficiente per quello che riguarda gli scali nazionali un'integrazione intermodale in particolare quella aria-ferro ancora non sufficiente e una politica di sviluppo che fino ad oggi non ha visto la partecipazione dei principali stakeholders questo implica che devono essere messe in piedi una serie di iniziative a supporto dello sviluppo cargo a tutti i livelli della firiera tra queste in particolare nel campo doganale o della security che diciamo riducendo il burden amministrativo possa attrarre anche investitori esteri in particolare nel 2017 il ministero del 2019 scusate il ministero dei trasporti aveva convocato un tavolo tecnico di settore che ha portato a individuare una serie di criticità ed alcune soluzioni che intendiamo riprendere nell'ambito del piano nazionale degli aeroporti tra queste la istituzione un tavolo di confronto permanente con tutti gli stakeholders della filiera un miglioramento sulla corretta intermodalità delle merce quindi implementare un fast corridor che potrebbe diciamo migliorare ulteriormente e facilitare il trasporto delle merci la digitalizzazione e la smaterializzazione dei processi amministrativi e il tutto per favorire una diciamo osservazione sistematica di quello che è il settore cargo in modo tale da affrontare e seguire queste tematiche con particolare attenzione questo è l'ultimo slide vi ringrazio dell'attenzione bene grazie grazie dati interessanti che sono emersi uno fra tutti l'e-commerce che caratterizza un po' l'80% delle merci trasportate poi tutti i dati tutti i aspetti che riprenderemo nel dettaglio con tutti i nostri relatori allora Ingegnar Pastori la vostra società è una società di consulenza in ambito di economia pianificazione e modellistica dei trasporti lei probabilmente può entrare nel dettaglio su alcuni aspetti più tipici del trasporto di queste merci o dei servizi che vengono effettuati grazie sì buongiorno grazie a tutti scusate ho questa questa voce oggi è un raffreddamento che mi dura da qualche giorno e che mi ha impedito di partecipare in presenza e avrei preferito come soluzione logistica però allora ho preparato anche io qualche slide e diciamo un po' l'inquadramento che ha presentato Ingegnar Minente è molto è già molto è già molto esauriente però magari posso aggiungere qualcosina allora scusatemi tanto condivido la slide spero che vediate tutti sì vediamo ok ecco intanto giusto per dire due parole noi sì diciamo che abbiamo il punto di vista da osservatori da esterni al mercato in quanto lo studiamo e lo facciamo studi ricerca consulenza sul settore lo vediamo un po' dall'esterno e quindi magari anche con un po' più di distacco se vogliamo rispetto a chi è all'interno la possibilità che ci è stata data appunto anche negli ultimi anni è di seguirne il mercato dal punto di vista sicuramente dei flussi e dei e dei noli che vengono applicati perché lavoriamo per Banca d'Italia su questo quindi sull'importazione e esportazione ormai da tanto tempo e poi in particolare la collaborazione con il cluster cargo aereo con il genere Bertini Anama ci ha sentito di condurre un paio di studi interessanti anche su come le aziende vedono le opportunità del cargo aereo insomma quali sono le criticità opportunità e anche evoluzioni della domanda non ultimo anche collaboriamo anche con il cargo Italy diciamo quindi abbiamo anche condotto un paio di presentazioni al cargo Italy quindi come forum che raccoglie un po' tutti gli operatori del settore per avere un po' la visione partivo anch'io da un po' dei dati il 2023 come abbiamo visto è stato un po' in calo quindi se guardiamo anche nel lungo periodo alla fin fine i numeri non sono così fortemente in crescita c'è sicuramente una domanda che sta andando a modificare perché come è stato detto c'è un trasferimento magari da domanda Belli a domanda Olcario a domanda Belli a Courier e poi oggi soprattutto a quello che è l'e-commerce però poi lo vediamo magari quello che succede oggi appunto ma penso è calato leggermente Fiumicino è cacciuto di nuovo il 2024 è partito col botto questo entusiasmo del gennaio 2024 è solo in parte legato al problema del Mar Rosso però se guardiamo i numeri probabilmente forse più di quello che può essere a prima vista è collegato perché proprio per quello che dicevamo prima quello che trasportiamo con una nave con una nave con 24.000 contenitori adesso non è tutto quello che trasportiamo in un anno con il cargo aereo però magari trasportiamo in un mese di cargo aereo a livello di quantità che ne vengono trasportate quindi capite bene che anche la sostituzione al di là della merceologia diversa che normalmente utilizza i due modi di trasporto e il livello di costi veramente molto diverso sì c'è una piccola fetta che però quando la misuro in tonnellate sul cargo aereo è magari tanta quindi c'è dei aspetti da considerare in queste oscillazioni ecco il 2024 è partito molto forte mi sembra di capire che febbraio non sia stato così più alto rispetto al 2023 però appunto i dati non li ho ancora precisi ecco questo era solo per richiamare appunto quanto già detto prima che l'andamento negli anni è sostanzialmente abbastanza piatto l'unico dip è stato vero è stato nel 2020 per causa covid ecco importante secondo me a livello di strategie allora Milano Malpensa è il vero portocargo italiano Roma Fiumicino è secondo ed è sicuramente chiasciuto legato come ha detto Enac soprattutto alla filiera del farmato perché comunque lì ha un'eccellenza produttiva nel centro d'Italia quindi questo è un elemento importante poi c'è tanti ci sono tanti altri aeroporti che hanno dei trasporti di nicchia e anche quando oggi sentiamo nuove iniziative legate che ne so Genova Comiso Grottaglie sono tutte iniziative che probabilmente a cui auguriamo sicuramente successo ma che il cui target non è certo quello di fare concorrenza Malpensa ma è quello di andare ad avere una quota di mercato di trasporto locale legata ai loro traffici al loro bacino industriale di riferimento ma non ecco non pensiamo che questa classifica degli scali possa cambiare nei prossimi anni se guardiamo ai primi 5 scali siamo al 92% del traffico complessivo ma forse basta fermarsi i primi 2 cioè i primi 2 i primi 3 per avere il grosso del traffico giusto per andare un po' più avanti ecco le variazioni rispetto al 2022 c'è stato un meno 1,6% a livello globale fiumicino è cresciuto tanto tutti gli altri sostanzialmente sono andati giù e vediamo anche un po' Bergamo che Bergamo è un altro modello se vogliamo di studio perché qualche anno fa era ovviamente il terzo porto cargo grazie alla presenza di un operatore grosso quindi c'è un aeroporto può svilupparsi o appunto sul perimetro economico locale raccogliendo le merci che devono essere esportate dal settore industriale o agricolo anche di riferimento oppure perché c'è qualche operatore che ci fa un hub di riferimento come è stato storicamente Bergamo per esempio per DHL ma poi quando poi DHL si è spostato trammantesca questa cosa che è stata un po' pagata un po' però questo per dire che appunto è un settore sostanzialmente un po' deboluccio anche perché tra i fattori che noi evidenziamo sempre è anche la nazionalità dei vettori abbiamo avuto storicamente un vettore nazionale che non ha investito molto sul cargo evidentemente e quindi siamo in questa situazione in cui siamo sotto al 15% di traffico gestito da vettori nazionali rispetto ai vettori esteri e ovviamente questo fa sì che anche le scelte strategiche di dove posizionare i voli se siamo in balia di quello che fanno i vettori esteri è evidente che anche il discorso dell'avio camionato che abbiamo visto prima è sicuramente molto molto importante quindi devo portare la merce a Francoforte con l'italia di vettore aerea ma per poi magari esportarla all'altra parte del mondo vabbè su direte tre nel mondo secondo Iata comunque siamo un po' allineati rispetto con l'Italia rispetto al resto del mondo ecco come vi dicevo noi osserviamo anche i noli medi applicati, 2021-2022, pur in presenza di questa domanda che avrebbe potuto crescere nuovamente molto forte, in realtà è stata anche un po' frenata forse dai costi di trasporto che si sono impennati, meno di quanto fosse successo per i noli container marittimi che hanno subito la rottura indeterminata dalla pandemia in maniera molto più diretta, mentre invece nel settore aereo questo è stato determinato da una carenza di capacità di stiva, quindi la riduzione dei voli passeggeri e quindi minore capacità di stiva e quindi noli che sono cresciuti oltre ovviamente ai costi energetici che hanno determinato l'effetto inflattivo. 2023, oggi qua non c'è in questo grafico, ma sono sicuramente diminuiti molto, quindi diciamo un ritorno un po' più alla normalità e quindi questo possiamo vedere che andrà salvo altri rischi geopolitici, quali il Mar Rosso, la recrudescenza della guerra in Ucraina e sicuramente anche la situazione Medio Oriente che non è facilissima, ma oltre alle guerre insomma io credo che ci siano anche degli interessi, degli scambi che possono portare anche a una polarizzazione un po' diversa dell'economia, questo lo vediamo quotidianamente, adesso da una parte con la potenziale elezione di Trump che potrebbe isolare un po' di più gli Stati Uniti e dall'altra parte con la Cina che cerca di fare un po' un blocco un po' più forte alternativo. Ecco, queste sicuramente sono cose che andranno a influire sui flussi e conseguentemente anche sui noli. Cosa chiedono le aziende? Queste sono conclusioni che riprendo come ho anticipato, abbiamo lavorato per il Cluster Carguero, riprendo dalle conclusioni che abbiamo presentato l'anno scorso, sicuramente perché scegliamo il trasporto aereo come aziende, cioè perché le aziende scegliono il trasporto aereo, sia le aziende manifrasturriere che gli spedizionieri danno al fattore tempo un ruolo molto importante, quindi cioè è l'urgenza della spedizione che fa sì che io possa spendere anche di più e quindi che vada a utilizzare. E quindi appunto il ruolo è chiaro soprattutto nell'urgenza e quindi posso essere un po' più veloce. Oggi però le aziende chiedono anche soprattutto affidabilità e sicurezza e quindi non è solo il tempo e il costo, perché anche il costo è comunque uno degli elementi che è stato indicato sempre molto importante anche per la scelta dell'aeroporto italiano o internazionale. Fattore tempo. Sulla scelta degli aeroporti, il livello di soddisfazione del sistema aeroporto italiano è mediamente buono, questo è l'ho dato il 2023, oggi all'inizio del 2024 c'è stato qualche trambusto in più di cui forse ci parleranno gli operatori, però mi sembra che è sostanzialmente buono, le criticità sono legate, come detto, al tempo come fattore principale, il costo un po' più elevato, ma quello che fa la differenza e perché io vado a ferro forte rispetto ad andare a malpensa è sicuramente legato alla frequenza e al numero di voli diretti sulle diverse destinazioni in cui devo andare. Quindi la debolezza logistica nostra rispetto ad altri paesi con compagnie di trasporto, compagnie aeree molto più forti è sicuramente legato a questo. Quindi cosa chiedono? Sviluppo di infrastrutture aeroportuali dedicate, miglioramento dei collegamenti di eccessibilità agli aeroporti e anche in qualche modo il coinvolgimento delle associazioni di settore di categoria nella fase di pianificazione, non nella fase operativa. Questo era un po' un risultato dello studio dello scorso anno. Per concludere, riguardando le prospettive, abbiamo già detto e credo che ne abbiate parlato anche nella giornata di ieri lungamente, di quella che è la situazione geopolitica e ci sono un sacco di problemi legati ai vari conflitti in atto, ai blocchi geopolistici contrapposti. Sono cose più grosse di noi, quindi forse è utile che ne parliamo in questa sessione, però se ne metto a livello di elemento di contesto. si può pensare che la domanda quindi non debba crescere all'infinito. C'è sicuramente questo boom dell'e-commerce cinese che ci viene anche riportato spesso e volentieri anche dalle cronache e anche dalle pubblicità un po' invasive, magari quando consultiamo pagine internet, sappiamo che Temu e Shane, per dire due nomi, sono quelli che stanno inondando le case di prodotti di basso valore e che utilizzano probabilmente anche in buona parte capacità di trasporto aereo, ce lo diranno anche gli operatori. Però, diciamo, trasporto aereo, sostanzialmente, io vedo anche in quei tempi che abbiamo visto prima, una buona capacità di adattamento e di reazione agli shock. Sicuramente il Covid è stato un buon banco di prova, ma anche tutto quello che sono reazioni ad altri elementi, aereo in un po' più nel dettaglio. Sicuramente facciarsi nuovi operatori che cercano un'integrazione verticale, questo è soprattutto legato a operatori di altre modalità di trasporto, trasporto marittimo che magari investono anche in altri modi di trasporto, possono essere l'aereo, il ferroviario, questo è un interesse che hanno manifestato diverse compagnie marittime, MSC, MAERSC, CMACDM, tutti hanno, diciamo, quote importanti anche di investimenti nel settore e questo è un elemento che poi si creino anche dei soggetti in prospettiva che possano determinare un po' di scelte più forti. Come ho detto prima, la chiesa del Marosso sicuramente può dare un'opportunità perché l'alternativa aerea per quanto, come ho detto, per volumi limitati è solo per quelle merci che hanno una determinata urgenza e capacità di spendere perché poi il posto di trasporto aereo è più o meno di 100 volte quello che è il posto di trasporto marittimo, quindi ci sono due ordini di grandezza di differenza, se vediamo il prezzo al chilo a tornella, è importante il ruolo da un lato delle imprese di spedizione che sicuramente sono quelle in grado di assistere, aiutare le imprese nelle scelte migliori, questa necessità di adattamento che è determinata da condizioni di stabilità che stanno direttando un po' croniche se vogliamo e è anche importante, come si è evidenziato recentemente, il ruolo degli handler e anche un po' di apertura del mercato degli handler sicuramente facilita il buon funzionamento della filiera. Quindi questi punti, con questo concludo, questi sono gli elementi un po' che potevo evidenziare oggi e credo possa essere utili e stimolo per la tavola autonda che segue e ringrazio tutti. Bene, grazie, grazie. Beh, dati integrativi rispetto a quanto è emerso in precedenza, quindi interessante anche il discorso dei noli, dei noli aerei, quindi un picco dei noli nell'export più che nell'import e forse anche come i noli marittimi c'è una visione al ritorno alla normalità, se così si può dire, sarebbe interessante capire anche questo discorso. Sì, allora, il ritorno alla normalità nei noli marittimi c'è stato a fine 2023, poi adesso è tornato assolutamente alla non normalità, come se ci potesse essere sempre bisogno di qualche elemento instabilizzante. E adesso tutto il ritorno aereo, diciamo, all'inizio del 2024 non ce l'ho come view, però sicuramente il 2023 era sicuramente tornato un po' più alla normalità rispetto al dato precedente, ma ricordiamoci che, allora, uno dei fattori importanti, soprattutto nel trasporto aereo, è legato comunque ai consumi di carburante, perché il legame tra i costi di energia e l'inflazione è più forte nei trasporti che in altri settori, se vogliamo, ed è più forte nel trasporto aereo che non in altri settori di trasporto, quindi lo shock energetico che c'è stato tra il 2021 e il 2022 si è riflesso sicuramente nei doli. In 2003 questa cosa si è affievolita enormemente, un aumento di capacità perché il trasporto passeggeri è ripartito alla grande e quindi anche tanta capacità di stiva. Quindi tutti, anche per le potenzialità degli aeroporti che si diceva prima, sicuramente anche, è vero, ho detto appunto che c'è una capacità magari di micchia di alcune specifiche filiere o delle produzioni locali, ma è importante anche che tutti gli aeroporti che hanno capacità di stiva in pancia comunque la utilizzi, ma questo va da sé. Ecco, quindi sviluppo di capacità cargo diffusa è utile, però ovviamente rimanendo a puntare sui due aeroporti che oggi guidano la cosa, non malpensa, è il secondo appunto a Fiumicino, sicuramente, però poi oggi abbiamo anche esponenti che lavorano sui due aeroporti e potranno dire molto meglio di me. Certo, grazie. Dunque, allora, Ingegnere Albertini, lei rappresenta l'associazione degli spedizionieri, fate parte di Fedespedi, settore cargo aereo, quindi rappresentate gli spedizionieri. Qual è la sua visione, qual è la vostra visione di questo comparto in questo momento storico con tutte le evoluzioni che sono in corso a fronte di un contesto generale che è stato così introdotto? Grazie. Grazie. Secondo me ci sono delle grandissime opportunità, come abbiamo visto e come hanno illustrato chi mi ha preceduto. Parliamo di genere al cargo, quindi noi come Anama rappresentiamo gli spedizionieri di genere al cargo, non i Corriere Espressi o Poste. Se noi prendiamo i dati di gennaio 24 di Malpensa, il dato porta un più 16% del general cargo, un po' dato certamente dalla crisi che c'è stata nel Mar Rosso, ma secondo noi anche tanto da un cambiamento dell'e-commerce come veniva sottolineato prima, di un e-commerce povero che non usa più i mezzi tradizionali del Corriere Espresso, ma oggi usa gli spedizionieri per fare la distribuzione in giro per il mondo. Quali sono le opportunità? Se noi oggi a Malpensa riusciamo a trarre dei voli cargo che fanno dell'e-commerce e poi viene anche distribuito in tutta Europa, non c'è ombra di dubbio che Malpensa avrebbe la capacità di attrarre anche la merce general cargo per poi distribuire nel nord Europa, quindi togliere un pochino quella titubanza che esiste nei paesi nord europei e di arrivare in Italia per poi distribuirla. O anche lo stesso, prenderla dal nord Europa e portarla in Italia per poi far lavorare all'estero. Quindi secondo me questa è un'opportunità che va sfruttata. L'altra opportunità che vedo sono i nuovi vettori come veniva sottolineato prima che stanno nascendo, MSC, MERSG e tanti altri. Malpensa certamente può essere al centro dell'Europa o del sud Europa anche in questo caso. L'altra che abbiamo visto ieri era del nearshoring. Nearshoring, se l'Italia, il nearshoring si fa sui prodotti di alto valore aggiunto e non certamente sulla merce povera, quindi se l'Italia diventa un'opportunità del nearshoring, quando ci sono le urgenze o comunque sarà una tipologia di merce che è più idonea al trasporto aereo rispetto al trasporto marittimo. Quindi anche questa può essere un'opportunità di crescita per il nostro settore. Quello che è importante, e come sottolineava prima il dottor Pisano, è veramente un cambio di mentalità, è un lavorare tutti assieme. Perché se uno lavora tutti assieme e si evidenziano subito quali sono le strategie, forse probabilmente è minore il rischio di incorrere in quello che è successo in questi anni a Milano Malpensa, dove delle nuove tipologie di traffico che avevano una gestione totalmente diversa da quello che era il generale cargo, hanno creato un po' di situazione di ritardo nell'attraversamento della merce aerea, che ha creato dei problemi a tutti noi, ai nostri clienti. Quindi secondo me dovevamo veramente lavorare assieme, scusate, ho scherciato il telefono per sbaglio, dovevamo veramente lavorare tutti assieme, a partire anche, come sottolineava il dottor Eminente, un gruppo di lavoro cargo che continui quello che è nato nel position paper del 2017, se non sbaglio, e dare un'accelerata a questi processi e soprattutto identificare quelli che sono gli aeroporti, aeroporto cargo io intendo voli cargo per il generale cargo, quello è Milano Malpensa per definizione. Gli altri aeroporti possono certamente avere delle specializzazioni su altre tipologie di prodotti o altro merce cargo che non è il generale cargo. Questo è importante anche che venga data delle mie guida, onde evitare che tutti facciano tutti e poi alla fine a livello di spedizioniere non è più conveniente perché non è possibile mandare un camion da una parte a Milano Malpensa o dall'altro per mandarlo a Genova o a Grottaglia e quant'altro. Quindi secondo me va dato un po' di linee guida su quanto riguarda una politica nazionale degli aeroporti. Senta Presidente, mi piacerebbe tornare su un altro tema, su uno di questi temi che ha appena annunciato, ovvero sull'e-commerce. C'è questo spostamento, c'è questa forte pressione dell'e-commerce cinese che sta avendo un risultato in termini di merci movimentate da parte vostra. Però allo stesso tempo l'e-commerce europeo, qualcosa sta cambiando. Qual è esattamente la situazione? A fronte di, ci hanno detto prima nella tavola rotonda precedente, 3 milioni di utenti, 3 milioni di persone che comprano su e-commerce. Poi loro dicevano che il 40% riescono a fare operazioni esenti negativa e questo è un discorso che a noi non interessa. Però ecco... 3 miliardi, corretto. Certamente l'e-commerce ha dato un'importante spinta sui volumi che arrivano giù a Milano a Malpenza. Ha cambiato il modo di lavorare e cambierà il modo di lavorare in quanto i tempi di attraversamento devono essere nettamente inferiori a quelli che siamo abituati sul general cargo, perché il cliente finale è abituato con un click a volare la merce ieri, quella che ha ordinato oggi. Su questo secondo me gli aeroporti, tutti noi stakeholder, dobbiamo attrezzarci in maniera diversa per riuscire a affrontare senza creare delle catene di blocchi all'altra merce che è il general cargo, che è quella che poi interessa l'Italia, perché sì, l'e-commerce è importante, ma non porta un valore aggiunto al paese Italia, perché l'e-commerce è tutto prodotto in Cina, vale molto poco, viene distribuito anche in Europa, quindi quello è positivo, però alla fine se noi per favorire l'e-commerce andiamo a bloccare le spedizioni farma o delle nostre industrie, quindi se diamo la priorità all'e-commerce e poi ci mettiamo 5 giorni a portare la materia prima nelle aziende farmaceutiche o nelle nostre catene di moda, chiaramente questo penalizza il made in Italy rispetto all'e-commerce, quindi bisogna veramente lavorare come sistema per far sì che si concentri su entrambe le catene logistiche, ma in maniera diversa. Certo, grazie. Un altro tema che non le chiederò, però su cui voglio io fare una riflessione è quello dell'integrazione verticale, sembra un po' che il cargo aereo sia un po' l'ultimo settore dove i vettori, quelli globali dello shipping, quindi chiaramente uno su tutti i MSC, forse sono già intervenuti nel cargo aereo, però probabilmente ancora questo è un settore che dovrà ancora espandersi, penso che ne vedremo ancora cose interessanti. Ma noi l'abbiamo già avuti dei competitor integratori verticali che hanno cambiato, partiamo dai Corriere Express, la TNT, UPS, FedEx, che hanno cambiato il loro modello di business dove prima andavano solo sui pacchetti e pacchettini, oggi questi Corrieri verticali integratori vanno anche a fare competitor a noi spedizionieri andando dai clienti offrendo maggior chili e tipologie di spedizioni, quindi come settore dell'MSC è solo un caso, adesso io prendo l'MSC perché lo vedo qua, però è totalmente diverso, è un caso che anche loro si affrontano e portano la loro expertise nel mondo di aereo, ma non lo vedo come un pericolo, lo vedo come una grande opportunità, perché avere un vettore in più, dove oggi abbiamo evidenziato che manca un vettore nazionale, avere un vettore che possa venire a portare la maggior capacità in Italia è solo un vantaggio per il Paese Italia, non certamente un rischio, perché non potrà mai essere come il mare dove il vettore aereo vada al cliente a offrire un servizio d'ordore, quindi sotto quel punto vedo molto più a rischio un integratore tipo un OPS, un FedEx che vanno a prendere quota di mercato rispetto a un MSC, una MERSC che vanno a prendere quota di mercato. Certo, grazie, il fatto appunto lei che parli di rischi, capisco il suo punto di vista, perché poi nel settore marittimo sono proprio gli spedizionieri che vedono il rischio nell'armatore che diventa spedizionieri. Bene, allora, ingegnere Dallanoce, voi rappresentate il principale hub del cargo aereo, che è quello di Milano, che da solo, se non sbaglio, muove il 50% dei volumi della merce? Sì, sì, meno di più in realtà, perché siamo arrivati nell'anno 2021 a stabilire il record delle merci trattate a Malpensa e abbiamo raggiunto una quota di mercato nazionale di circa il 70%. Chiaramente era un po' una bolla, possiamo chiamarlo, comunque un evento eccezionale che ha fatto sì che con la riduzione dei voli passeggeri venissero usate anche le macchie aereo e i passeggeri per trasportare solo merce, quindi è stato un fenomeno particolare, congiunturale, che è abbinato poi alla partenza di un hub importante come quello di DHL, ha fatto esplodere i volumi su Malpensa e quindi abbiamo fatto 750.000 tonnellate nel 2021. È chiaro che poi negli anni seguenti, 22-23, c'è stata una normalizzazione perché siamo tornati a un livello di traffico più distribuito, più normale. La crescita che abbiamo visto anche di Fiumicino, che è stata mostrata negli interventi precedenti, è chiaramente frutto del fatto che è ripreso finalmente lo sviluppo del traffico passeggeri a Roma, che era stato praticamente bloccato negli anni del Covid e quindi questo ha permesso anche a Roma di riprendere e trasportare merci nell'estive, perché chiaramente la forza di Fiumicino è quella del Belli, perché hanno pochissimo volo, traffico, vol cargo, quasi inesistente. Noi siamo un aeroporto specializzato anche per l'all cargo, abbiamo la struttura per poter gestire questo tipo di attività. Dopo i passaggi precedenti farei proprio un focus veloce sulle attività di Malpensa, mi aiuto con qualche slide, pochissime. Questo per dire che noi abbiamo una struttura di circa 100.000 metri quadri di magazzini, parte per il general cargo, parte per l'e-commerce, diciamo per il segmento courier, che adesso a Malpensa vale circa poco più di un terzo del traffico totale. Siamo arrivati a sfiorare il 40% della quota di mercato, adesso siamo attorno al 35%. Ecco, abbiamo una grande diversificazione nei vettori e nelle destinazioni, perché noi non abbiamo un hub carrier, ci confrontiamo con i grossi hub europei, però in realtà noi non abbiamo un vettore italiano che faccia hub su Malpensa, come è noto, tra l'altro adesso Ita non ha più neanche un volo su Malpensa, quindi siamo, da gennaio ha tolto l'unico volo che aveva per New York, quindi il traffico è, diciamo, in mano ai grandi vettori che fanno collegamenti internazionali e intercontinentali. Abbiamo più di 20 vettori che fanno all cargo, specializzati nell'all cargo, tra cui appunto anche DHL e nei courier, però comunque abbiamo un ventaglio molto ampio di vettori che collegano tutto il mondo con Malpensa. Volevo darvi un quadro storico dell'andamento delle merci di Malpensa, perché è interessante, chiaramente il mercato del cargo aereo è un mercato molto volatile, risente molto rapidamente anche dei cambiamenti che ci sono a livello geopolitico e economico e possiamo dire che tendenzialmente è in continua crescita il mercato del cargo su Malpensa, grazie alla posizione geografica, al grande sviluppo delle nostre imprese sul nord Italia e sulla catchment area importante che abbiamo in Italia. Ci sono poi stati ovviamente delle flessioni, è evidente quella nel 2009 appunto dopo il de-hubbing di Alitalia e poi c'è stata una progressiva ripresa appunto perché abbiamo sostituito l'Italia con dei altri vettori che hanno introdotto nuova capacità. Poi appunto c'è stata l'esploit delle 750.000 tonnellate nel 2021 a cui è seguita una normalizzazione del traffico. Posso dare già un primo indicatore sull'inizio del 2024, mi collego a quello che è stato detto negli interventi precedenti, effettivamente gennaio è iniziato col botto, è stato detto, ma sta proseguendo anche febbraio e marzo. Noi stiamo registrando un incremento che adesso ha misurato al 25 di marzo, quindi ormai abbiamo finito anche, è completato il primo trimestre, siamo attorno al 15% in più complessivo delle merci su Malpensa rispetto all'anno scorso. Quindi c'è un andamento molto in crescita, tra l'altro è soprattutto general cargo, come diceva Alessandro Albertini, la crescita la vediamo soprattutto per quello che sta succedendo nel Mar Rosso sicuramente per alcune tipologie di merce, ma soprattutto per l'e-commerce di cui si è tanto parlato, perché vediamo che anche i nuovi vettori che sono partiti su Malpensa sono focalizzati su questo segmento. È cresciuto molto l'import dal Farit proprio di questa tipologia di merce e quindi come giustamente diceva il presidente di Anama, Malpensa si trova ad affrontare un cambiamento, deve capire, deve adattarsi alle nuove tipologie di merce perché effettivamente sta cambiando il mercato in maniera anche molto rapida e molto potente perché arrivano dei 7-7, delle macchine all cargo dal Farit che hanno quasi esclusivamente e-commerce a bordo e quindi questo mette a dura prova il sistema e anche poi l'attività dei nostri operatori, dei nostri end, insomma, Malpensa. Vedo rapidamente, questi dati vado veloce perché li abbiamo già detti, sono stati già citati nei passaggi precedenti. Ecco, faccio notare che rispetto al 19, quindi al mondo pre-Covid, Malpensa è completamente cambiata, ha cambiato pelle come diciamo noi perché appunto è arrivata una componente di courier di e-commerce nuova perché DHL ha aperto il suo hub alla fine del 2020, è un hub di grandissimo successo. Per darvi un riferimento, arrivano a fare, DHL arriva a fare 60 movimenti aerei al giorno, da lunedì al venerdì. Quindi in termini di movimenti aerei è praticamente il quarto vettore di Malpensa dopo le low cost, dopo EasyJet, Ryanair e Wizz Air, quindi ha una capacità di smistamento sullo scalo molto importante ed è stabile anche adesso che l'e-commerce europeo sia un po' ridotto, DHL sta tenendo i volumi dell'anno scorso e quindi è un esempio di successo che sta tenendo molto bene su Malpensa. Sulla situazione italiana è già stato detto in precedenza, volevo solo fare un passaggio sul discorso europeo. Noi siamo appunto, se guardiamo la situazione in Europa, siamo il quinto scalo in Europa se non consideriamo gli scali focalizzati sul cargo. Quindi se non consideriamo gli EGI, l'Ipsia, Cologna, Lussemburgo che sono aeroporti che fanno prevalentemente cargo, quasi solo esclusivamente cargo, noi ci dobbiamo confrontare invece con gli aeroporti che come noi fanno tanto traffico passeggeri e cargo insieme, quindi ci confrontiamo con i principali hub europei e siamo quindi subito dietro i cosiddetti top four, Parigi, Francoforte, Londra e Amsterdam. Abbiamo bisogno di crescere ancora, possiamo crescere ancora, ci sono tante opportunità di crescita e che dobbiamo sfruttare, come è stato detto in precedenza. Quindi sicuramente si devono adeguare i nostri operatori, dobbiamo però anche noi come gestore aeroportuale di Malpensa fare tutti gli sforzi possibili per investire nelle infrastrutture e nei processi. Quello che stiamo facendo è di fatto questa, la nostra attività di questi ultimi anni è focalizzata sulla miglioramento diciamo delle infrastrutture esistenti, sulla possibile estensione delle infrastrutture all'esterno del sedime e c'è un procedimento in atto che stiamo aspettando di capire se si completerà per poter allargare gli spazi di Malpensa sul cargo e quindi poter realizzare nuove infrastrutture. Ma comunque all'interno dei nostri confini, del nostro sedime aeroportuale stiamo lavorando per migliorare le infrastrutture esistenti, faremo un nuovo magazzino, investiremo sulla seconda linea che perché abbiamo disperato bisogno di creare un polo logistico a Malpensa e stiamo lavorando anche con molto impegno sull'efficientamento dei processi perché anche da questo si recupera capacità. Abbiamo lanciato un'importante iniziativa grazie anche a Nama di sviluppo della piattaforma Smart City per l'interconnessione di tutta la filiera del cargo aereo su Malpensa e gli spedizionieri stanno iniziando a mandare i dati nei formati richiesti. È un processo faticoso che stiamo però seguendo in maniera molto dedicata e che ci auguriamo che possa aiutarci a diventare più competitivi, più veloci e a sfruttare meglio la capacità che abbiamo. Grazie. Questo tema è interessantissimo però ci ritorneremo ancora dopo. Prima vado a sentire però volevo una riflessione su quanto ha detto lei, molto interessante, che nel grafico, l'andamento, perché i grafici alla fine non mentono mai, perché fanno vedere realmente cosa avviene. Allora avviene che il general cargo determina, fa la differenza, quello che il grafico che era stato mostrato prima rispetto al vostro grafico c'è una crescita dal 2019 agli anni successivi, già nel 2022, 2021 e quindi insomma è la crescita del general cargo importante. Poi un altro dato interessante che voglio sottolineare è la dimostrazione della velocità, quello che dicevamo prima, la catena logistica che ha acquisito questa, dopo il Covid, questa capacità di adattarsi in maniera assai veloce, sempre più veloce perché sempre più ravvicinati e veloci sono gli eventi di shock, gli eventi di cambiamento repentino e quindi una dimostrazione e quindi sono i dati che lei ci ha mostrato. Allora, dottor Iacobacci, arrivo a lei. Dunque, buongiorno, voi rappresentate gli Enders aeroportuali, siete quindi l'ultimo, lei ha detto, l'ultimo anello della filiera logistica e come tale ha molte responsabilità, delle professionalità evolute, riconosciute, perché comunque avete necessità di formazione continua. Ci spiega esattamente le caratteristiche? Prego. Come no. Innanzitutto ringrazio l'organizzazione per l'invito naturalmente. Sì, dunque, come a suo Enders ovviamente rappresentiamo un pacchetto eterogene di Enders, adesso oggi ci concentriamo evidentemente sul cargo, anche perché è la mia competenza diretta ormai da 15 anni. Dunque, volevo prima fare una piccola riflessione sintetica. Mi fa molto piacere aver ascoltato i colleghi in precedenza e mi fa piacere che emerga oggi con una sensibilità molto più pregna, molto più consistente. Mi fa piacere che emerga il concetto di lavorare a sistema. Oggi ci stiamo rendendo conto che abbiamo la velocità che è richiesta dal mercato cui non corrisponde un modus operandi. Questo è il punto chiave. Se il mercato va velocissimo, i numeri ce lo dicono, il modus operandi è comunque lento, il sistema deve reagire. Quindi mi fa piacere che anche Alessandro e i colleghi abbiano parlato di questo approccio di sistema, adesso qualche battuta in più la diciamo. Perché il sistema va insieme alla variazione culturale, è una questione di mentalità, di forma mentis. Altrimenti la filiera complessa rischia di essere, qual è, frammentata ma diventa improduttiva, inefficiente, incapace di reagire a quelle che sono le variazioni che sono da una parte estemporanea, come diceva lei. Quindi siamo in grado di poter reagire all'emergenza? Sì, lo siamo. Siamo sempre stati bravissimi in questo. Dall'alto però ci sono delle chiare connotazioni di cambiamento di modelli di business che vanno gestite in una modalità diversa, in cui l'elemento culturale delle funzionalità operative, delle semplificazioni amministrative, delle procedure burocratiche, delle procedure operative, eccetera, devono poter fare necessariamente e velocemente il paio con quella velocità, altrimenti produciamo disefficienza e inoperatività. Questa era in realtà la sintesi, dottoressa, dell'intervento che volevo chiudere, però secondo me è il punto importante perché è un po' quello che è emerso in generale. Ma chi sono gli ender cargo? Allora una battuta veramente semplice. L'ender cargo è un guardiano di porta, come tale o fa il muro o cade il muro e via con l'assedio e non facciamo più neanche spugna. L'ender cargo è evidentemente il soggetto più che finisce nella filiera, se parliamo di export, all'ultimissimo posto e quindi rischia rischia di dover essere in qualche modo esposto, subire o assorbire o accogliere una serie di aspetti procedurali, amministrativi, tecnici che se non gestiti bene nel corso della filiera finiscono poi per diventare un problema e tornando alla velocità un aereo deve partire carico, punto. Se non parte carico c'è un problema di funzionalità logistica che non necessariamente poi diventa causa e responsabilità dell'ender cargo. L'ender cargo è semplicemente il punto di arrivo. Quindi questo torna al tema della sensibilità culturale al modus operandi che dicevamo prima. L'ender cargo è un operatore, come dicevamo, ultraqualificato perché fare il guardiano di porta non vuol dire semplicemente aprire, prendi, passa, la merce e se ne va. Vuol dire necessariamente avere un intero impianto, una struttura, un sistema complesso di persone e mezzi che deve corrispondere ovviamente a delle regole perché tutti noi abbiamo all'esterno della filiera delle regole ed è corretto. Molte di queste regole esterne sono già presenti in quanto aeree. Il tema della security è un tema che presuppone l'aeroporto, è un tema in cui rispetto al quale alcuni criteri aerei di sicurezza già esistono anche sulla seconda linea aeroportuale prima di cadere all'interno dell'aeroporto. Ma quando si arriva in aeroporto non ci sono storie. L'aeroporto è un ambito che deve avere le sue caratteristiche di sicurezza all'ennesima potenza e questo riguarda mezzi, persone, processi e tutto il resto dello show. E questo vuol dire quindi un impianto di persone, mezzi e quant'altro che deve essere preparato, scrinato, identificato e gestito in questo modo. A fianco a questo, e quindi questo è il tema diciamo della sicurezza, lasciatemi passare un termine banale per far capire tutti in termini antiterroristici via. Siamo sicuri che non ci sono rischi di interferenza sulla merce. Dall'altra parte c'è invece il tema della, come dire, safety dell'aeromobile che vola. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sembrerebbe facile mettere la spesa all'interno del portellone dell'auto, nel baule, in realtà quando dobbiamo fare un viaggio in vacanza fatto bene con la famiglia diventa un casino mettere le valigie. Bene, immaginiamo che cosa vuol dire poter allestire un aereo cargo con mille e mille requisiti affinché quella macchina sia volatile. Punto. Sia aeronavigabile. Aeronavigabile vuol dire che quell'aereo è come la motocicletta, non ci si cade dalla motocicletta perché ci si fa male. L'aereo vola e basta. E per poter essere coerenti con un principio di aeronavigabilità, la maniera con la quale si costruisce un pallet e quindi si allestisce un intero aeromobile, se veniamo agli all cargo di Malpensa, è una maniera ultra qualificata e quindi c'è del personale qualificato che deve essere formato secondo regole generali, prescrizioni ENAC, IATA eccetera, piuttosto che secondo regole che riferiscono poi allo specifico vettore sul quale poi andiamo a sovrapporre anche dei criteri di tipo qualitativo e ritorno al tempo e alla velocità di cui sopra. Quindi è un sistema complesso di persone e mezzi che devono avere queste caratteristiche. A fianco a questo mettiamo un po' questo mercato ballerino. Quindi come lei può immaginare, dottoressa, ci troviamo in una situazione, come dicevamo prima, in cui il guardiano di porta è in realtà un guardiano ultra qualificato che deve fare un sacco di cose. E su questo ci mettiamo un mercato ballerino e vengo qui al doppio modello di business che vorrei evidenziare. Cioè da una parte l'ender cargo oggi vive la dinamica dell'e-commerce, abbiamo detto non mi ripeto, i dati parlano chiaro e quindi quello che anni fa era il modello corriere o il modello Amazon, va per dirne un pezzo in più che è diverso dal corriere ma comunque sempre dedicato è al modello in cui le pance vengono riempite. Quindi le pance ordinarie, i voli che noi prendiamo per andare in Cina o tornare dalla Cina sottoportano grande quantità di merce e-commerce. Ma non ci rendiamo conto che l'ender cargo per lavorare questa quantità di merce deve cambiare il modello di lavorazione di quel personale ultra qualificato. È proprio diverso il tipo di manodopera che deve poter gestire come è diverso il flusso di uscita della merce, veniamo ai debito canali, così come è diverso il tema complessivo dell'organizzazione del lavoro. A fianco a questo modello l'ender poi ha il prodotto, ricordiamoci gli slati cui dicevamo, la purezza, la steriltà perfetta del sistema, deve poi lavorare, l'abbiamo sentito prima nelle presentazioni, merci ad altissimo valore aggiunto. Quindi anche Alessandro prima ricordava il prodotto farmaceutico così come lo ricordava anche l'ingegnere, mi scusi non ricordo il nome, non di Enac, l'ingegnere Pastori, sì di TRT. No, parlavamo di prodotto farmaceutico il 38% fiumicino eccetera. Il prodotto farmaceutico è facile pensare alla merce in quanto tale. Ok, spedizioni. Il prodotto farmaceutico ha una filiera complessissima per mantenere l'integrità, se ovviamente è un prodotto a temperatura controllata, ma anche quando non lo è. Ha una filiera complessissima che in aeroporto, che già di su un punto, come abbiamo detto prima, di Cardine e bla bla bla, diventa un modello completamente differente perché io devo avere lo stesso tipo di persone formate, trainate, strutturate eccetera, che lavorano in un modo, lavorano nell'aeroporto, devono essere sicuri, devono fare bene i palli, li devono saper fare e devono lavorare in e-commerce. Una parte di costore invece deve poter lavorare in maniera pura, perfetta, sterile, quasi da farmacisti, il prodotto farmaceutico. Sono modelli completamente differenti. In un mercato dicevamo che è completamente ballerino, quindi Lendler oggi vive, in realtà, e veniamo al punto finale della filiera, vive un andamento in cui le proprie control tower, malgrado si cerchi continuamente di definire metodologie di analisi del rischio, perché oggi tutti lavoriamo così, al nostro livello non si può non lavorare da questo punto di vista in questo modo. Ma con un mercato ballerino e con queste differenze merceologiche per volume, per composizione, viviamo una dinamica di rigidezza. Siamo spugne, dobbiamo essere i più esposti, siamo pronti ad essere i più esposti, i più flessibili, ma poi impattiamo con un sistema di rigidezze, perché dal punto di vista del flusso operativo la filiera logistica è fatta come è fatta e veniamo alla mentalità. Tutti vogliamo consegnare la merce il venerdì, tutti vogliamo ritirare il lunedì, veniamo alle difficoltà amministrative, la dogana è chiusa nelle ore X, Y, veniamo alle difficoltà sul mercato del lavoro, tutti avete assistito, avete visto quello che è stato l'incubo che ho personalmente vissuto quattro giorni sul divano per riuscire ad uscire dell'ufficio naturalmente, per riuscire ad uscire della situazione che abbiamo vissuto, lato sindacale giusto o sbagliato ha generato un impatto micidiale, c'è una rigidità del mercato del lavoro, oggi i ragazzi non vogliono venire a lavorare in aeroporto, l'andamento come dire instabile dei picchi e delle valli dei volumi con la composizione merce logica ti porta a dover gestire all'interno delle strutture aziendali questi picchi e valli con una flessibilità dei bacini, impattiamo col sistema dei permessi aeroportuali, dove poi non è facile, non è veloce e non è, e veniamo alla velocità, immediato poter sopperire a situazioni di picco o di difficoltà attraverso la flessibilità di un sistema di controlli, ma non è colpa dell'amministrazione o dell'Enac, è perché il sistema dei controlli è adeguato per assicurare quella famosa sicurezza di cui dicevamo sopra, perché questo è un ambiente che deve rimanere steli. Quindi chiudo dottoressa dicendo semplicemente, impattare con le rigidità delle infrastrutture dalla noce, Paolo parlava degli investimenti, è verità, è corretto, è necessario, ma al pensa un potenziale di crescita altissimo, come dirigente d'azienda ho fatto fare delle valutazioni all'interno del magazzini di cui siamo titolari per la parte di competenze che sono extra spendere ma d'azienda, una marginalità di crescita come volumi arriva anche al 35-40%, quindi il mio magazzino, se lo guardo come azienda, ha un potenziale altissimo. Il personale è personale qualificato, siamo pronti a sostenere la sfida. Dobbiamo rendere, e vengo al sistema, il cambiamento culturale più rapido, altrimenti i tempi di risposta che noi avremo come adattamento a fronte di queste rigidità finiranno sempre per rendere il guardiano di porta irresponsabile di qualcosa. Se l'intero impianto, dalla digitalizzazione, dalla semplificazione amministrativa, alle burocrazie per i permessi, ai controlli di sicurezza e quant'altro, non rendano coerente questa richiesta di velocità a fronte di modelli di business differenti, coerenti effettivamente con la domanda che viene dal mercato. Rispetto, e chiudo Lucia, a vettori che sono quelli che fanno il business. Non c'è niente da fare, e l'abbiamo detto prima, non c'è il vettore di bandiera, ne siamo tutti crucciati, oggi corriamo appresso a chi ha il petrolio. E non c'è altro da fare, questa è la realtà vera di quello che accade, perché sono costoro, quindi sono i middle east, gli hub del middle east che stanno facendo il punto di rilancio di un'enorme quantità di merce che entra e che va, piuttosto che gli hub dell'estremo oriente rispetto al tema dell'e-commerce. Quindi ringrazio ancora Albertini per invocare la lavorazione a sistema di questo cambiamento culturale, stresserei solamente ancora di più la necessità che sia veloce la reattività che noi abbiamo, tutti noi insieme, altrimenti non corrispondiamo a quelle che sono le aspettative e le richieste del mercato in termini di competitività e di qualità dinamica. Questa è un'altra cosa in cui credo fortemente, la qualità dinamica non è la qualità del certificato dietro alle mie spalle che sono il migliore a gestire il farmaceutico in Italia via aerea, la qualità dinamica vuol dire adattare la propria competenza qualificata a quello che velocemente il mercato richiede rispetto a degli slack che sono sempre più pressanti e sempre più sfidanti dal punto di vista dei vettori che fanno la differenza sul mercato. Bene, grazie dottor Iacobaccio, ha reso perfettamente l'idea, ha messo uno in fila all'altro tutte le criticità del vostro compagno. Sono ragionamenti dottoressa, ne mettiamo, è un ragionamento, i bicchetto non mi piacciono, sono ragionamenti. No, no, ma la nostra è una tavola rotonda, la voce agli operatori, non per niente gli operatori si devono mettere a confronto, cioè diciamo si devono, c'è la possibilità, stamani gli è dato la possibilità di confrontarsi. Quindi, in generale Albertini, alcuni elementi di criticità che sono emersi, sicuramente un aspetto che è stato citato è il piano aeroporti, piano aeroporti che lo scorso anno il governo ha inserito nel DDL lavoro, però è diversi anni che ci stiamo lavorando, però ancora non ha proda. L'altro aspetto è quello sulle infrastrutture, è chiaro che le società aeroportuali devono investire in strutture perché la merce possa correre velocemente, perché la merce non si può mai fermare, così come la digitalizzazione che ha sempre la stessa funzionalità. Allora, partiamo dal piano nazionale aeroporti, secondo me il dottore Eminente ha evidenziato come adesso stanno riprendendo i tavoli e dove la parte cargo aereo avrà certamente un'importanza rispetto al passato, quindi io ringrazio ENA che il governo di questo. Quindi certamente saremo poi chiamati anche a vederlo assieme per fare un piano nazionale aeroporti che possa essere allineato alle esigenze del mercato. Per quanto riguarda invece le strutture aeroportuali, sì, le strutture aeroportuali possono essere migliorate, secondo me SEA negli ultimi due o tre anni, da quando c'è il nuovo management di SEA, sono stati fatti gli investimenti che negli altri vent'anni non sono mai stati fatti e quindi chiaramente che se voi lasciate una casa, un magazzino o qualunque bene senza fare investimenti per 20-30 anni, poi non possiamo aspettarci nell'arco di due o tre anni di aver tutto perfetto e funzionante. Chiediamo, come abbiamo sempre chiesto, a SEA di spingere il più possibile sugli investimenti conoscendo le criticità, perché chiaramente non è facile andare a fare degli interventi in delle palazzine che sono quasi da terzo mondo, lasciamolo dire, perché tu lo sai che ho sempre detto che sarebbe meglio tirarla giù e rifarla da zero, che poi non è possibile, però diciamo che state facendo il possibile. La digitalizzazione era un pallino che noi avevamo già lanciato dieci anni fa, non è stato colto dai nostri associati e dal sistema, nonostante che con SEA avessimo provato a lanciarlo, come spesso accade dobbiamo rendere l'obbligatorio in Italia per far sì che funzioni, con ENAX è fatto sì che diventasse obbligatorio entro quest'anno, poi abbiamo scoperto, a strada facendo, che il programma che era stato fatto una decina di anni fa doveva avere degli aggiustamenti per riuscire a essere integrato da tutti gli spedizionieri, quindi si sta lavorando su diversi tavoli per far sì che la digitalizzazione di Malpensa e la Smart City possa essere funzionante nell'arco di 3-4 mesi, l'obiettivo, questo potrà portare dell'efficienza certamente al sistema, potrà misurare i tempi di attraversamento di tutta la nostra merce in una maniera oggettiva e non più oggi come oggi che è molto soggettiva dai singoli utenti e quindi secondo me dovrebbe permettere a SEA ed ENAX a fare interventi mirati dove il servizio non funziona più, come effettivamente tutti i nostri clienti fanno a noi spedizionieri su base mensile e su base semestrale. Queste sono le tre tematiche che secondo me dovranno portare Milano Malpensa e poi la digitalizzazione, noi quello che speriamo, e poi finisco, che la digitalizzazione di Milano Malpensa sia anche copiata dagli altri aeroporti cargo per evitare quello che è successo anche negli amare dove ogni singolo porto avesse un sistema diverso, quindi avendo due o tre aeroporti in Italia che fanno il cargo sarebbe auspicabile che la digitalizzazione fosse unica. Grazie. Ingegner Dallanoce, chiaramente a lei la replica. Io mi ritrovo direi perfettamente in quello che ha detto Alessandro Albertini perché effettivamente almeno per quanto riguarda gli ultimi due temi, cioè lo sviluppo infrastrutturale e la digitalizzazione, sono i temi su cui noi siamo impegnati quotidianamente, si può fare sempre di più e meglio e quindi lo sforzo deve essere fatto da tutti, dobbiamo lavorare tutti insieme, come abbiamo detto con tutta la community del cargo di Malpensa, però direi che la strada è tracciata perché indietro sul tema della digitalizzazione non torniamo, stiamo affrontando adesso delle situazioni di allineamento sia da parte nostra che da parte degli operatori che veramente ci auguriamo di risolvere in pochi mesi e quindi questo darà veramente un impulso importante allo sviluppo del cargo di Malpensa. È un percorso faticoso, come ho detto prima, che però veramente stiamo implementando day by day e ci auguriamo veramente che possa arrivare a completamento in breve tempo e che possa poi essere veramente anche una best practice per il resto del mondo cargo nazionale, quindi questo ce l'auguriamo e quindi lavoriamo in questa direzione. Bene, grazie. Quindi mi spiace, abbiamo terminato i nostri minuti, però siamo stati pienamente nei tempi e mi sarebbe piaciuto coinvolgere ancora gli altri relatori su questo tema. Va bene, lo faremo l'anno prossimo su questo sempre, questo forum. Allora, ringrazio gli organizzatori e sono molto contenta di aver partecipato a questa iniziativa che comunque non è trasporto marittimo, ma è trasporto cargo aereo, quindi molto interessante. Concludo, chiudo e do i miei saluti. Grazie per voi per averci assistito. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.